Corse pure io nella stanza di Padre Pio e vedeva che il dottor Salle diceva Padre Pio lo perdiamo stanotte, Padre Pio lo perdiamo stanotte. Disse Padre Pio posso andare a prenderlo l'olio santo? Si sbrigati, corri corri. Prese l'olio santo, lo portai sopra e domandai che voleva fare di voi l'olio santo? Nessuno voleva fare l'olio santo a Padre Pio. Allora io dissi posso farlo io Padre super perché sono pratico, l'ho fatto tante di quelle volte a Foggia, assistevo a quattro parrocchi di notte. Sbrigati, sbrigati e così cominciai a ungere Padre Pio. Prima gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, i sensi, i cinque sensi, i cinque sensi. Poi dopo, finito queste preghiere, questa operazione, quando Padre Pio fece così, espirò, è morto Padre Pio, è morto Padre Pio, è morto Padre Pio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.